Sono convinto che nel momento in cui si faranno le liste ci si confronterà e chiaramente noi abbiamo sempre detto che ci devono essere dei paletti, i paletti non sono sulle persone, i paletti sono su cosa rappresentano quelle persone, quindi valuteremo, sentiremo chi coordina le altre liste, adesso pensiamo al programma, i nomi sono importanti e quindi ringrazio ancora Daria, ringrazio Gada che sarà con noi a accompagnarci, oltre a tutti coloro che hanno lavorato in questo periodo, ma adesso credo che dovremo poi insieme a vedere la complessità delle liste che all'interno abbiano persone che parlano a mondi diversi, chiaramente non ai mondi che hanno governato male e che hanno anche dimostrato che per loro l'illegalità era secondaria, parlo di Formigoni, di quelle persone, di quelle di quell'ambiente, quindi parleremo con le persone che intendono candidarsi e chiaramente valuteremo insieme. I nomi a quanto mi risulta, i nomi che ho letto sui giornali, al momento, al momento, mi immagino che non si riferisci, non sono al momento assolutamente come previsti nella lista, poi chiaramente ne discuteremo. Oggi è la Presidente del Toro di questa lista e ci confronteremo, da oggi parte anche il confronto politico complessivo con le altre liste e con il Dottor Sala, c'è stato il nostro candidato signor, c'è stato uno stallo, perché fino a venerdì sera non si sapeva ancora. Ripartiamo dopo la bellissima esperienza di questa lista, anche se con un'altra persona come punto di riferimento, con rinnovato entusiasmo, rinnovate forze e soprattutto con una rinnovata apertura e quindi diciamo che da domani, non il Sindaco che ha anche altre cose da fare, ma i responsabili della lista avranno dei confronti che prima sul programma e poi sulla persona.